SIGLA Chiedo scusa per il ritardo, signora? Nina Martini. E questa bella bambina chi è? Caterina. Lei ha un contratto per una sostituzione estiva. Però, se avrà lavorato bene a fine estate, non escludo che possa essere assolta. Grazie. Non sarà una gran cosa, però ferie tredicesima stipendio, la casa, la campagna. Voglio solo riassessarmi un attimo. Buongiorno signora Martini. Il dottor Torri vorrebbe vederla domani dopo il turno nel suo ufficio. Perché vuole vedermi? Nessuno ti obbliga! Perché non me l'hai detto che era un figlio di puttana? Che se non scappavo mi si scopava! No, no, è vero! Se tu non voglio non fa niente! Alina, non l'hai detto come funzionano quale cosa, la tua amica? Nina, c'è il direttore che la vuole vedere. Mi riferiscono che lei va in giro a raccontare delle cose gravi sul mio conto. Chi gliel'hai detto? Non hanno ragione loro, ho ragione io. C'è questo del sindacato sulle molestie. Una volta li chiamavano complimenti. Perché te ne sei andata dal baratta all'improvviso? Il baratta bisogna starsene zitto. Perché Don Ferrari non dice niente? E tu perché non dici niente? La verità bisogna dimostrarla prima o poi al giudice. E gli altri? Tutti con lei? Tutti a sostenerla? Non credo proprio. Ma cosa ti è venuto in mente? Tu sei venuta qui a rovinarci le vite, oh? Quando ci è scappato tutto rimane. Vi denuncio con i maiali. Se non faccio niente, prendo senza gli altri combatti. Ma sta tranquillo, so quello che faccio. Ho accettato questo caso perché penso di farvi vincere. Non sarà facile. Ci vorrà tempo, lavoro e tanta forza. Ma possiamo farcela. Pezzo di merda.